La scuola della discordia, titolo da affibbiare facilmente alla protesta scattata questo pomeriggio all'esterno del primo circolo didattico di Porta Romana a Nocera Superiore. Sul piede di guerra le mamme dei piccoli alunni della scuola dell'infanzia, oggetto di sfratto da parte del comune per termine del contratto di fitto dei locali che hanno fino ad oggi ospitato la scuola. Le tre sezioni si dovranno trasferire stando all'ordinanza sindacale e in aule finora inutilizzate e di recente ristrutturate nel plesso Fresa Pascoli di Via all'Europa. Una soluzione che non è data giù ai genitori dei piccoli alunni ma soprattutto alla dirigente scolastica Giovanna Ascione che ha posto l'accento sui problemi di sicurezza relativi alla collocazione delle nuove aule in cima a due rampe di scale. Lunghezza d'onda condivisa dalle dichiarazioni delle stesse mamme presenti nel pomeriggio nel cortile del plesso di Porta Romana, pronte a dare battaglia all'amministrazione comunale per far sì che i bambini possano fruire di una scuola che presenti il minor numero di possibili pericoli per la loro incolumità vista la proverbiale vivacità dei piccoli dai 2 ai 5 anni. La dirigente scolastica e le mamme lamentano una mancanza di confronto diretto col sindaco Giovanni Maria Cuofano che non avrebbe presentato loro nemmeno la documentazione di agibilità, sicurezza e idoneità ginecosanitaria delle nuove aule messe a disposizione del primo circolo. Rassicurazioni in tal senso però sono arrivate dall'architetto Angelo Orefice, responsabile area lavori pubblici per il quale basta una certificazione tecnica del comune perplessi con popolazione scolastica inferiore alle 100 unità. I genitori vogliono comunque vederci chiaro e il balletto di accusi ha portato oggi ad un ennesimo stop al trasferimento delle suppellettili nella nuova sede di Viale Europa. Una vicenda che non sembra avviata a rapida conclusione, stante anche la lettera inviata dalla dirigente scolastica al prefetto e all'ufficio scolastico regionale, sezione di Salerno, per avere un parere terzo e definitivo sul da farsi.